Una pattuglia delle volanti impiegata nel controllo del territorio ha notato un ragazzo nordafricano a girarsi con atteggiamento furtivo tra le auto parcheggiate accanto alle strutture alberghiere di via Camarcello. È stato fermato e trovato senza documenti, condotto in questura dove si è scoperto che ha 26 anni e numerosi precedenti, tra cui furto aggravato, porto d'armi, rapina, resistenza e oltraggio pubblico ufficiale, vilipiendio della Repubblica e delle istituzioni costituzionali e delle forze armate. Si è poi accertato che era stato arrestato due volte dalle volanti a distanza di poco tempo, lo scorso 5 ottobre per tentato furto aggravato in concorso ai danni di una pizzeria di mestre e il 9 ottobre per rapina impropria a danni di un supermercato di Marghera. A seguito di tali condotte criminali il giudice aveva disposto la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Venezia e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ma nonostante questo lui ha continuato a delinquere. È stato arrestato. Grazie. 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 Grazie.